Assolutamente sì, la Camera di Commercio ospita la conferenza stampa del partner della Befana del Poliziotto e un evento ormai radicato sul territorio, la dodicesima edizione, questa dedicata alla memoria di Martina Morelli. Noi siamo molto vicini a tutta la famiglia. È un elemento distintivo del territorio ormai la Befana del Poliziotto perché raccoglie in questa splendida HMS la necessità appunto del territorio di essere rappresentato, la necessità delle famiglie di ritrovarsi insieme in un evento così importante e spettacolare. Sì certo, una manifestazione ormai radicata nella città di Catanzaro, siamo al 25esimo anno quest'anno, avevamo cominciato come sindacato di Polizia a farla all'interno delle mure della Questura, una manifestazione che noi raccogliamo dalla nostra amministrazione, la prendiamo come sindacato e la facciamo crescere. Nel corso del tempo il sindacato si è evoluto, arriviamo addirittura nel teatro più importante della regione, al teatro Politeama. Una manifestazione che quest'anno avrà, come dire, oltre alla 25esima edizione, sarà particolarmente incisiva per i poliziotti della provincia di Catanzaro e non solo, perché dal mese di agosto purtroppo siamo con il lutto al braccio per quello che è successo al nostro segretario provinciale Rocco Morelli, è deceduta la figlia Martina, una ragazza di 21 anni, che ricorderemo con questa iniziativa, anzi dedicheremo proprio la manifestazione a Martina Morelli. Contestualmente ricorderemo altre persone a noi molto care che nel 2023 ci hanno lasciato, Benito Scarfone, uno storico sindacalista, la signora Alba Falbo, la mamma di Giulio, di Pietro e di Maria Falbo, ormai appartenente alla nostra famiglia. E siccome parliamo di famiglia, Rino e Giulio, Rino Rodì e Giulio Falbo fanno parte della nostra famiglia sindacale da ormai da 15 anni, sono loro a gestire questa manifestazione dal punto di vista della comicità, della teatricità e dello spettacolo in tutti i sensi. Saranno quattro ore di manifestazione, il pomeriggio, la mattina inizieremo all'interno dei parti pediatrici del nostro nosocomio, ringraziamo il dottore Raiola che ci dà ancora la possibilità di andare a trovare i bambini che sono ricoverati nel giornal Befana nel nostro ospedale, porteremo quel minimo sindacale di allegria che è il loro merito. E poi il pomeriggio, appunto, come dicevo prima, la grande festa per la città. Per questo ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha voluto ancora una volta inserire, come le precedenti amministrazioni, all'interno del cartellone istituzionale. E poi concluderemo le manifestazioni della città di Catanzaro con la Befana del Poliziotto, targata FSP Polizie di Stato. Novità? Quest'anno ne abbiamo tante. Come diceva il segretario, intanto siamo alle nozze d'argento, giusto? Che si fanno a 25 anni. Con Rino lo portiamo avanti ormai da 15 anni. E quest'anno avremo personaggi di caratura nazionale, quali Carmine Farago, da Made in Sud, da Zelig, Alberto Cagliazza, uno dei rumoristi più bravi, sempre, del panorama nazionale. E poi abbiamo le scuole che ormai ci seguono da tempo, come SD Passione Danza, la scuola Arte Danza di Giovanni Calabro, che è direttore artistico anche del teatro Politeama. E poi, insomma, abbiamo tante novità. Abbiamo anche questa... Io, in particolare, ho questa croce che mi porto ormai... Io sono la sua croce, però io voglio fare i complimenti a Giulio Falbo. Giulio perché c'è stata un'evoluzione dal piccolo palazzetto al grande Politeama. Grazie alla sua bravura, alla sua esperienza, è diventato direttore artistico e nonché, con orgoglio, dico presidente onorario. Quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene. Una volta che io sono diventato presidente nazionale, quando mi fermano per strada, lo posso dire, lo posso vantarmi di questo... Guarda, secondo me, visto l'esperienza che abbiamo avuto stamattina e che ci ha fermato la Polizia, quando abbiamo detto che sono presidente onorario, ci ha fatto la multa. Quindi non so se dobbiamo dirlo bene, però complimenti, sarà veramente un'altra bellissima serata. Vi aspettiamo quindi al Politeama il 6 gennaio alle 16.30. Non mancate.